La crisi politica del centrodestra abruzzese è deflagrata ben prima del previsto sulle nomine della sanità. E' questo il risultato di sei mesi di governo regionale inesistente sia sui temi più urgenti e rilevanti che sulla gestione ordinaria. Così consiglieri di centrosinistra dei gruppi Legnini Presidente, Partito Democratico e Abruzzo in Comune, dopo la verifica della maggioranza di centrodestra alla guida della regione Abruzzo. Intanto si è risolto sostanzialmente in una nuova richiesta di spartizione di nomine. Si è partiti da un pizzino che è stato pubblicato con i punteggi, la spartizione è diviso per gruppi politici e si è continuato a parlare di questo. La crisi è avvenuta per le nomine fatte sulla sanità, le nomine più importanti di una regione. Questo è il punto. In questi sei mesi non si è fatto nulla, si è avuto una giunta lenta che è passata ad essere una giunta ferma e si è soltanto discusso di poltrone. Sul rinvio a settembre, deciso dal vertice di ieri con la previsione di un'inedita cabina di regia presso la presidenza della giunta, Paolucci ha aggiunto ancora. Ma intanto noi non abbiamo compreso questa verifica. Io penso che nessun abruzzese l'abbia potuto comprendere perché si è rimandato al mese di settembre per dire quello che si è fatto, ovvero nulla, e allo stesso tempo si è deciso di mettere in campo una cabina di regia che non si capisce se è l'acqua tiepida per quanto riguarda quello che chiedeva la Lega o il commissariamento di un presidente che di fatto in Abruzzo non c'è mai. La Lega continua a riproporre questa autonomia differenziata, un tema molto delicato. Noi siamo fortemente preoccupati e anche largamente contrari. L'autonomia per come l'ha proposto la Lega, vanno avanti le regioni della Lombardia e del Veneto nella richiesta più puntuale, sottrarrebbe alla regione Abruzzo centinaia di milioni di euro di risorse, soprattutto per quanto riguarda la sanità e i trasporti. Non si capisce perché Salvini nel suo beach tour lungo le spiagge di questo bellissimo sud e nel nostro paese avanzi questa richiesta di autonomia differenziata che è un modo per fregare il sud. Sul presidente Marsilio, Paolucci ha aggiunto infine. Chi l'ha visto? La domanda principale è questa. Io penso che è incomprensibile quando dico qualcosa perché non conosce a fondo la questione e i temi dell'Abruzzo e soprattutto chi l'ha visto. Non l'abbiamo visto sulle crisi industriali, sul grande tema di Caramanico e sui tavoli aperti. Non lo vediamo sulla programmazione sanitaria. Avete mai sentito parlare il presidente Marsilio sulla rete ospedaliera abruzzese o ancora sui trasporti? Due norme hanno fatto, i trabocchi e quella dei trasporti, ambedue rischiano di essere caducate.